Le migliori applicazioni per tracciare il tempo, le abitudini e gli obiettivi. Scopriamo subito la classifica ufficiale. Attenzione, questo video è un estratto del video supremo sulla produttività che comprende 16 classifiche come quella che state per vedere, più una bonus su tutti i migliori siti suddivisi per categoria. Il video completo lo trovate sempre qui su YouTube, come sempre gratis, vi metto il link in descrizione. Buona visione. Tracciare, tracciare come se non ci fosse un domani. Questa classifica è in realtà divisa in tre sezioni. Abbiamo prima il tracciamento delle abitudini, poi abbiamo il tracciamento del tempo e infine il tracciamento degli obiettivi, quelli lavorativi ma anche quelli di vita. Partiamo quindi dalla quinta posizione in classifica con il tracciamento delle abitudini e con Abitify. Abitify vi dirò la verità, l'ho inserito un po' simbolicamente a rappresentare le tantissime applicazioni di questo tipo che trovate online. Vi basta fare una ricerca e ne trovate davvero per tutti i gusti e alla fine si assomigliano tutte. Sostanzialmente noi stabiliamo quali abitudini vogliamo tracciare e mettiamo una crocetta per ogni giorno in cui abbiamo mantenuto quell'abitudine. Voglio smettere di fumare? Allora metterò una crocetta per ogni giorno in cui non ho fumato. Voglio mettermi a dieta? Metterò una crocetta ogni volta che ho mangiato il giusto? Voglio fare un nuovo sport? Insomma avete capito, metterò la crocetta ogni volta che avrò effettuato l'attività sportiva. E le applicazioni come Abitify sostanzialmente poi ci danno un report, un resoconto di come sta andando l'acquisizione della nuova abitudine. La parte che io preferisco è questa qua con i quadratini giornalieri perché vedere questo grosso grafico che si riempie di quadratini di attività svolte devo dire che è molto motivante insomma. Quindi se abbiamo bisogno di una piccola motivazione esterna per raggiungere i nostri obiettivi e per acquisire delle nuove abitudini, strumenti come Abitify sono decisamente efficaci insomma. Naturalmente non fanno il lavoro al posto vostro. Poi siete voi che dovete mettere lo sforzo per raggiungere l'obiettivo però devo dire che avere una piccola motivazione esterna a volte può aiutare. Al quarto posto della classifica troviamo un altro tracker delle abitudini che però è un po' diverso, si distingue un po' dalla massa dalla maggior parte dei suoi competitor perché Abitica, quarto posto della classifica, aggiunge quel pizzico di gamification al tracciamento delle abitudini nel senso che è impostato come se fosse un videogioco, un RPG per chi capisce di che cosa sto parlando e vi assegna dei punteggi o vi dà dei malus nel momento in cui raggiungete o non raggiungete i vostri obiettivi. Diventa proprio un videogioco quindi voi acquisite dei punti esperienza, acquisite delle monete, perdete le vite in base a quelli che sono i vostri gesti, le vostre attività della vita quotidiana. Quindi è la stessa cosa che abbiamo visto in precedenza ma con un pizzico di divertimento in più. Sicuramente utile anche in questo caso, ancora una volta vi invito a cercare su Google tutte le alternative disponibili a questo genere di applicazioni perché ce ne sono davvero decine ma probabilmente anche a centinaia. Abbiamo parlato quindi del tracciamento delle abitudini e adesso con la terza posizione in classifica andiamo a ragionare invece sul tracciamento del tempo. In terza posizione c'è Clockify che è sostanzialmente un'applicazione che vi permette di inserire le varie attività che state svolgendo e lui vi cronometra quanto tempo ci mettete. Sicuramente molto utile in tutti quei casi in cui dobbiamo rendicontare il tempo che ci richiede un'attività. Pensiamo per esempio se svolgiamo un'attività in cui ci facciamo pagare a ore. Allora in quel caso ci serve avere un tracciamento per poter poi fare una rendicontazione economica ma anche in tutti quei casi in cui vogliamo magari avere un'idea un pochino più concreta di come spendiamo il nostro tempo beh questa applicazione è preziosissima. Il consiglio che io vi do perché poi vi dico la verità va a finire così non datevi l'obiettivo di utilizzarla per sempre che alla fine diventa anche un po' uno sforzo inutile mettersi ogni giorno per ogni cosa che facciamo a scrivere ora sto mandando le mail ora sto registrando il video ora sto facendo la chiamata col cliente ma il suggerimento che vi do è usatelo magari per due o tre settimane per avere un'idea di come spendete il vostro tempo e vedrete che quella cosa anche se fatta per un breve tempo per un breve lasso di tempo vi sarà utilissima per capire come spendete il vostro tempo per capire se ci sono delle attività che potete tagliare delle attività che magari pensate di svolgere in poco tempo ma ve ne richiedono molto e viceversa insomma. Se trovate utile questo genere di applicazioni la più famosa al momento in cui realizzo questo video è probabilmente la seconda in classifica cioè toggle toggle tra toggle e clockify non ci sono delle grosse differenze diciamoci la verità sono quasi la fotocopia l'uno dell'altro se devo proprio trovare una differenza beh vi direi che toggle si inserisce all'interno di un ecosistema un po' più ampio di prodotti ed è questa la ragione per cui lo metto più su in classifica rispetto a clockify quindi se vi serve uno strumento che traccia il tempo e nient'altro in maniera piuttosto minimale clockify è la vostra scelta se volete invece un ecosistema con più prodotti che vi permettono di fare altre cose oltre al tracciamento del tempo quindi per esempio anche la pianificazione delle attività allora probabilmente vi volete sbilanciare su toggle ma al primo posto della classifica del tracciamento delle cose abbiamo l'applicazione che ci permette di tracciare gli obiettivi gli obiettivi lavorativi gli obiettivi di vita vi sto parlando di time stripe su time stripe ci ho fatto anche una guida completa che io ritengo molto interessante perché questa è un'applicazione davvero interessante la trovate linkata naturalmente nella playlist correlata sostanzialmente qual è il concetto di time stripe voi vi date degli obiettivi di vita che poi andate a spacchettare via via in obiettivi più piccoli quindi gli obiettivi di vita diventano gli obiettivi dell'anno cioè voi ogni anno vi dovete chiedere cosa posso fare quest'anno per raggiungere i miei obiettivi di vita ipotesi obiettivo di vita diventare milionario avere una casa al mare avere un impatto sul mondo avere una cerchia di relazioni solide benissimo cosa faccio quest'anno per raggiungere questi obiettivi di vita diamoci degli obiettivi più a breve termine e poi ancora cosa farò questo mese per raggiungere gli obiettivi dell'anno cosa farò questa settimana per raggiungere gli obiettivi del mese e infine cosa farò oggi per avvicinarmi agli obiettivi della settimana che mi porteranno all'obiettivo del mese che mi porterà all'obiettivo dell'anno e che anno dopo anno mi porterà a raggiungere i miei obiettivi di vita beh al di là dell'utilizzo di questa applicazione specifica che secondo me funziona molto bene questo proprio come concetto come modus operandi come filosofia di vita a mio modesto parere è estremamente efficace ed è la ragione per cui lo metto prima in classifica perché io credo che dobbiamo avere degli obiettivi di vita perché se non abbiamo degli obiettivi di vita brancoliamo nel buio cioè un po come dire io mi metto in macchina ma non so dove sto andando e figuratevi farlo per una cosa così grossa come la nostra vita cioè noi dobbiamo sapere dove vogliamo andare nella vita che cosa vogliamo raggiungere che cosa vogliamo fare che cosa vogliamo essere e poi dobbiamo lavorare per raggiungere i nostri obiettivi time stripe ci aiuta a fare questa cosa ed è la ragione per cui si trova primo in classifica a questo punto una volta che abbiamo tracciato il nostro tempo le nostre abitudini e i nostri obiettivi beh magari desideriamo metterli metterli giù in maniera un pochino più strutturata e per farlo potrebbero servirci fogli di calcolo quelle cose tipo excel per capirci e la prossima classifica è proprio quella che riguarda i fogli di calcolo grazie grazie vi ricordo che quello che avete visto è un estratto del video supremo sulla produttività che comprende 16 classifiche più una bonus su tutti i migliori siti sulla produttività suddivisi per categoria vi ricordo che il video completo lo trovate sempre qui su youtube che è gratis e che vi metto il link nella descrizione di questo video io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo ciao grazie a tutti grazie a tutti